Ma andiamo, vediamo quale sarà il prossimo campione Per fortuna esitato, non metteo plus Ciao mates Ah, ok Andiamo di Zyra Ma come sta Chernobyl? Perché come sta Chernobyl? Aspetta, cosa avete riscattato? Ah no, ciazzole molto, ok, avete riscattato un po' di roba Aspetta, non capisco più un cazzo Mi sono perso tutta la chat, ragazzi Vengo da money, vengo da money, vengo da money, bla bla Bella cucina, sei un po' cambiato? Eh sì, hai visto Arcadonna, ero una ragazza Molto piacevole cambiare così tanto Luca sta spammando, bannatelo Ah, ok Ah, avete riscattato la chat sull'emote, ma nessuno sta facendo l'emote Ah, ok, ho capito Ah, ok, niente, ok, non bannatelo più Ciao ragazzi, benvenuti a tutti quanti Avete visto quella era money, grazie per il follow a chi ha lasciato il follow Vi voglio tanto bene Grazie per la sub a chi ha fatto la sub E grazie per essere qui a chi è qui Saluti generici, però vabbè, spero che Si sentite prezziati comunque Quindi se qualcuno deve andare via dalla live, ragazzi Grazie di essere stati qua e alla prossima E niente Mi raccomando, se stanotte dovete dormire, buonanotte E se domani dovete mangiare, buon appetito Insomma, saluti un po' generici, però Magari Porca puttana bodyblock Io ti ho ucciso prima Sfronzo di merda, io l'ho ucciso prima Ho vinto io Ecco Così funziona, hai capito? Fra Farm, Zyra, farm Ok, bro Thank you Cioè, ma pure mi dice farm Ma siamo in ranked Ma scusa, ma che cazzo dici? Ma io ti ammazzo Ma ne prega niente Poi, questo qua Pensa davvero che io lo farò farmare Cioè, ma scusami caro Siamo Io aspetto di farti scalare Secondo te Cioè, adesso lo picchio, eh Perché tradimento, cazzo Via Attaccatela Ma ti ammazzo Fratma Vieni qua Oh Oh porca, distrutto Farm un cazzo Tanto Durata di immobilizzazione Aumenta I fail My Q WP Perché? Come me ne frega? Ma scusa, perché stiamo facendo il roleplay? A me non mi importa di parlare con te Come si può mutare questo NPC? Ah, qua non facciamo un cazzo di danno Andiamo a botlane Ah, ma abbiamo Udyr in giungla Ma abbiamo già perso Infatti è già 0-1 Abbiamo già intato Abbiamo intato la top lane Bravi ragazzi Oh, 2 kill a 3 Dal minuto 3 Oh, ma Sentrà benissimo questa partita Che bravi Raga, non pittate di anna Ma il giro di lotte si fa Fine Live Sì, mates Si fa entro fine live Lo facciamo anche prima Appena Appena finisco il game Lo facciamo Sorry, fra Purtroppo Sono successi un po' di cose È arrivata una ragazza Che è voluta sedersi qui Al posto mio E vabbè Vale, ancora la cosa del nude Ma io non vedo i pronostici Comunque, ho tutto buggato Adesso aggiorno la pagina Non scrivete niente Se no, non lo leggo E quindi non posso insultarvi Allora potete scrivere Ciao, Gianco Invece ho letto lo stesso Buonasera, buonasera Sto maxando lei Non so se si faccia così Tanto la Q Vedete Ma che sono spell brutte Che schifo Zaya Aia Guarda Quelle sono spell belle Guarda lì che male Cazzo Vado a ricca puttare Ma qualora le lune che stacchi Ti rimangono? Sì, sì Rimangono Ovviamente Sticchiato un bel po' forte E forse il knight era di troppo Ma Se lo faccio venire qua Dove sono io Poi gli nascono Tante di quelle piantine Al ragazzo qua Distrutto Disintegrato Piantini all'attacco Piante contro ninja Molto bene 3-1 Zaira mid Avete visto? Mi avete sfidato E la sto giocando mid Solo per voi Ecco Pulizia di stato Giardinato Io pareggio i punti Mi è morto internet A caso mentre scrivevo Cazzo Suku Questo è un bel problema Però vedo comunque Che è scritto Altrimenti non avresti potuto Scrivere questo messaggio Urca Ma sapete cosa compro? Sapete che cazzo faccio? Ma una cosa che Gli darà un fastidio bestia Un nemico Un nemico è stato ucciso 15 di armatura Cambieranno le sorti di ogni fight Scommettiamo? Proviamo Ok bot sta vincendo Top ha fatto una kill Quello lì è fiddatissimo Ma mid sta vincendo Bravo mid Chiunque tu sia Proprio un bravo mid laner Abbiamo Ciao fra Bravo vai sotto torre Disintegra Raga Voglio vedere che scrive Voglio vedere che scrive Distrutto con le piante Z main Molto bene Tutto secondo i piani La conquista del mondo E Che cazzo Perché ce l'ho una torre Sono a top Sono a tiltato ragazzi Di là trollano Mi han vinto Oh no Sejuani ha fatto il drago Questo sarà un brutto presentimento Mi gancano Mi gancano Mi gancano Me ne vado Guardate come cammina sexy Proprio Se la crede E' proprio fiera Sto champion Mi piace sta skin di Zyro Preferite quella base Mi piace questo La notte ha cambiato La sorte del fight Hai visto? No no In realtà non ha cambiato un cazzo Dai ho l'Ale of Blade Usiamo l'TAC Ciao fra Ciao fra Non si battono Le piante oggi Sono agguerrite Sono E' cresciuta la giungla Rilly WP Zyra mid main Ma non contro i bot Ora andiamo back Cazzo immagina essere Zed e perdere contro Zyra Esatto Cazzo è partito troppo tardi il storyplay Peccato Devo farlo prima Però Very very nice Moni sono 5-1 Ho preso da te Ma come ho preso da te Ma al massimo tu hai preso da me Che cazzo dici Si Le donne hanno sempre ragione Eh vabbè allora hai ragione Che cazzo ragazzi Non dire niente qua No ragazzi ma quelle spazzature con amore Eh no Teo plus Dai Eh insomma Un po' Di meriti Anch'io sono stato più bravo Per la spazzatura anche lui ma Ti amo i meriti a questo povero streamer Su Eh Ok Oh guardate Zed cosa vuol fare Vuole gancare top Attenzione La mia titura è giunta Ah dice queste parole Oh è la prima ward che piazza all'inizio del game Ho 0 di Di Control Vabbè non servono le ward ragazzi Come vedete Le mie piante sono le vere ward Ma se ne vanno dalla top lane Buono buono Non faccio danno con la cu L'importante è fare la Disintegrato No non è passato di qua Vabbè Vai vai disintegramolo A mille flash L'ho uccisa Non so come Non so Il red l'ho uccisa Ok Bella questa Replay Se adesso riscatto un giro di ruota Lo fai subito Esatto Non lo faccio subito Fra Ma scusami ma secondo te Ma sto in game Ma come faccio a farlo subito Se lo riscatti lo faccio dopo Anche se non ci sei lo faccio comunque E se vinci qualcosa Ti verrà detto Tranquillo Fra Che sorridi Tranquillo Fra Eh si è molto bello dire Fra E aggiunge Quello non so che Tipo Sembra che Proprio Proprio un fra C'è molto altro da vedere Moni ti voglio sposare Attenzione Moni Ma chi Sucurigio Si chiama Valentina È una ragazza Dile che sei ricca va bene Se sei ricca va bene No no Se no no Moni però C'è insomma È sempre per stare i soldi Ah grazie Va bene Ciao moni Ora ti saluto molto forte La conversazione è durata fin troppo Puoi andare via se vuoi Ma non ci sono i soldi Non c'è niente Va bene dai Come non c'è niente Dici vai via Puoi prendere l'uovo kinder se vuoi Lo porti a casa tua? Io ho le uova da tenere i soldi Qualcosa fa pur prezzo Dai prendi le uova Va bene Prendi le uova Ciao moni Dai facciamo metà davanti Ma Rapp è ricco Perché abbiamo donato Adesso sono diventato ricco Grazie a loro L'hanno donato? No no L'ha golico e Luca Dico L'ha golico Non l'ha donato adesso Però dice che insomma È diventato ricco Grazie a loro Effettivamente sono più ricco adesso Ma non quanto voglio io E vabbè insomma moni Non è che puoi pretendere così Piano piano Striremo il nostro mondo Ecco My team stupid Allo Willows GG Vabbè io adesso fatturerò Sicuramente sarà più bello Del mondo di Zed Guarda qua No 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 Zed è morto comunque No lasciatelo Non l'ho dato Se mi uccideva Zed era gold reset Peccato Moni mi ha distratto Sono morto Per colpa tua La prima morte C'è la seconda Va bene va bene Ciao moni Ciao Ho avuto la sub regalata Sono quello trasgressivo del gruppo Io per due mesi di fila Ecco guarda Fa una gara Chi ha avuto più sub regalando Non è che fa una gara Chi ha fatto la sub di più No a chi è stata regalata di più C'è chi fa gara Chi le regala Chi fa gara Chi le riceve Ecco Bravi ragazzi Ma non c'è la gara Di chi le fa No in realtà La gara di chi le fa C'è Ma rabbè Ok Ho stato in letto Va bene Ora basta leggere Mi avete distratto tutti Guarda lì Wow che danni Ragazzi Comunque Zaire è bella Avete visto? Non è che è uno scherzo Sta Allora botline è impazzita Stanno facendo tutti cagare Come mai? Ah perché Il drin è andato bot Abbiamo bot anche noi Beh allora vinco io Sì Personality È il nove mesi di sub È regalata Effettivamente Stavo solo aspettando La tua Efra Urca Urca Vieni nel mio giardino Vieni nel mio giardino Fra Vieni nel mio giardino È arrivato nel giardino ragazzi Le piante si sono ribellate La presenza Porca Risp Che è successo Non l'ho letto Ah Prima di me sei riuscito A scriverlo giusto Rabia di un secondo item Rabia di un secondo item di cattiveria proprio Io faccio sempre Rabia di un secondo item ragazzi Io sono Mi piace sempre essere tanto cattivo Ma Ok 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 qua facciamo la torre adesso Un altro hit Grazie 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 bravo Ma sei troppo gentile Oddio questo scudo Vai l'eclissi No Basta adesso muori Va bene va bene Si è salvata per fortuna Andiamo back Cosa compriamo No facciamo Facciamo il blu Cosa dicono in chat Definite no crit Overhaul Overhaul But Far Better Denti Stresh Enjoy a nice Easy 5v4 Oh il flame Cioè ragazzi è più facile giocare con Zyra che con Cassio Vabbè prima Cassio però avevamo dei nemici cattivissimi Quindi Please report my team My tram Sono you will get 9 breve Mamma mia quanto parlano questi ragazzi Infatti quelli che parlano di più sono quelli con lo scorpio peggiore Hai visto? Tutti che parlano Tutti che scrivono Invece che giocare Sono è 0-1 E scrive Non sta facendo niente Non gioca È a livello 8 Perché scrive Va bene Merda che non sei Ah Ok You have to back off with Trinda activates that Unarmed Ma che cazzo Ma che cos'è Ma cosa sta succedendo ragazzi In sta partita You have to back off When Trinda activates that unarmed state Cioè ma Non facevi prima When Trinda Us R No Devevi dire Activates that unarmed state Ma che cazzo stiamo facendo roleplay su League of Legends Ma seriamente Ma è ranked Perché è partita all'inviato alla cometa Ah ecco perché Sono morto Però un po' di danno lo facciamo Che dite Piantine 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 Sì il giardino Sì il giardino Mamma mia il giardino Guarda guarda Ammazzatelo Ammazzatelo Il giardino ragazzi Giardinati per bene Legge via giardinati ragazzi Questa la rivediamo in diretta Non facciamo la clip Questa la andiamo subito a rivedere Perché è partita all'inviato alla cometa Ah ecco perché Sono morto Però un po' di danno lo facciamo Che dite Piantine 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 Sì il giardino Sì il giardino Mamma mia il giardino Guarda 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 Ammazzatelo Ammazzatelo È top Questa clip Questa me la clipate subito ragazzi Questa la voglio vista clipando Mamma mia È bellissimo Ma a tutti che scrivono Mamma mia comunque Bello bello Vabbè Loro scrivono Noi facciamo realizzate Noi ci divertiamo Brava fra Vieni qua Vabbè questo non lo fermiamo Vieni qua fra Do un pensierino Vabbè Volevo far mittare un po' Per dire così Magari si gira Invece Invece no Invece non gli importa Ma bravo Bene bravo Udyr Almeno correre lo sai fare Ha solo un oggetto Udyr Meglio di niente effettivamente Guardate qua che giardinaggio Mamma mia ragazzi Sono main giardino Dovevo fare il giardiniere Dovevo fare il giardiniere Un po' di piantine create Peccato Forse potevo fare un carretto No Zaira is good not lucky Ah perché mi hanno scritto lucky Guardate Guardate Sona mi fa i complimenti Thank you Sona But I think you guys talk too much Play more chat less I don't like it but this is true Cioè Non le piace che sono forte Che gioco bene Ma è la verità Eh vabbè Per forza Il tuo nemico Dio bono È normale che non ti piace Anche a me non piace Quando il mio nemico È più forte di me O mi vogliono venire A ammazzare tutti Immortale per 43 minuti Virgola 9 Ma che cazzo è Dio bono Ok dovevo flashare forse Verso la mia torre Sicuramente Avrei scrivato comunque L'ulti di Seiju E sarei stato sotto torre E non ci sarebbe stata Però vabbè Volevo Pensavo che morisse Dal di lì a poco Quel coso Quello lì Questo Non muore mai Vabbè adesso abbiamo questo Guardate quanti soldi avevo In saccocia 2000 gold Ora torniamo più forti che mai E adesso che mi prendo la zonia Non ce n'è più per nessuno Cazzo I don't care One day You will have such a team Pointless to play There is nobody to support Sorry Sona We will all report you Guardate 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 Roleplay su League of Legends Allora se dobbiamo fare roleplay Ognuno di noi deve impersonare Il personaggio che sta giocando Quindi dovete cercare di immedesinarvi Nella sua storia Nel suo carattere E cercare di fare quello che farebbe lui Dire quello che direbbe lui Tipo voi In che personaggio vorreste immedesimarvi? Se fosse su League of Legends Quelli che conoscete ovviamente O magari quello che vi piace Qual è un personaggio che tipo Dite cazzo Vorrei essere lui Vorrei provare A immedesimarmi in lui Proprio Non poteva fare nulla Era lì Ci vado O non ci vado Ci vado O non ci vado Ecco Gragas Ah ok Ma adesso che mi avete scritto il nome Riscrivetelo Per favore E motivatemi la scelta Mi sono dimenticato di chiederlo Scusate Motivatemi la scelta A me lo so il perché Perché mi dite Gragas E io voglio sapere Perché cazzo vuoi immedesimarti in Gragas Mi piacerebbe bere dalla mattina alla sera? Ma dove è andato? Prima non moriva mai Adesso è stato one shot È il karma tesoro Via via Bravi Guardate ci sono le piantine qua da me Ah non mi attacchi più eh Puttanella Mi attacchi solo quando pensi di potermi uccidere E niente Bravo Zed Bentornato nel giardino Niente questo giardino ragazzi È in fiamme oggi Nel senso che Veramente Ho la skin della fiamma Fiammato Vado a fushare la botta Jin diventa un pazzo assassino Che adora il quattro Che probabilmente è un kindred Ok Rammus Ok ok Rattro Kata Allora intanto Perché è una figa della madonna Poi perché è un'assassina Tipo un'altra vita Vorrei essere un'assassina Che figata Allora io vorrei Inadesimarmi in Chiana Perché sarei una figa pazzesca Avrei tantissimi poteri Yumi perché hanno la vita facile I gatti dormono e mangiano Anche su League of Legends è così Infatti fa il cosplay Cioè praticamente Yumi è stata pensata Per quello che i gatti sono E la gente flamma Yumi Cazzo ragazzi Ma vi piacciono tanti i gattini Su Facebook No? Quando li condividono Lì nelle storie Lì su Instagram Foto dei gattini Però poi Quando la Riot dice Ok allora vi diamo un gattino E no Non ci piace Aspettate La situazione è tragica Buongiorno Non fai danno Non fai danno Non fai danno Non fai danno Va bene Va bene Sono gliel'ha data su Al minuto 4 Forse un po' Presto Per dire Questo team Senza senso aiutarlo Però Dai ragazzi Dai ragazzi Prendiamo anche il Cosmic Drive Che ne dite Oppure questo Oppure il Relay Si rallentiamo Cioè posso fare qualsiasi cosa Effettivamente qualsiasi cosa è forte Vabbè facciamo questa Poi ci pensiamo Facciamo questo E poi questo 200 gold 200 gold E compriamo il Cosmic Drive Secondo me questo è potente Perché le spell di Zyra Sono essenziali Se tu le hai più spesso È meglio no Allora vediamo così Senza questo Avrei la Q Ogni 3 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 Così Ogni 8 Un secondo in meno della E Cioè Tanto eh Anche la R sicuramente Diminisce molto 60 secondi Prima era 69 Ok forse non è così tanto Come mi aspettavo Però Cioè nel senso Mi manca ancora altri 20 Debilities Appena finiamo l'oggetto Quindi Qualcosina Lo togliamo So che hai Cresciuto fieri Quadroneggi anche tu L'arte del troll pick Sì è un nome interessante Non faccio troll pick A spam Perché Li fa lui Se portassi Il stesso contenuto suo Sarebbe un problema Però anche io ne faccio Qualche volta Purtroppo Non posso Fare In continuazione Perché Se no Cioè C'è un content Che per lui Io faccio altro Gioco sempre In Abbastanza basso Ma faccio altre cose Adesso sto facendo questa challenge In cui gioco Completamente a random Champion random E rune random Infatti vedi le mie rune C'è l'omniston Cioè C'è sempre l'omniston Che però ovviamente Ti dà la rune a random Quindi Vabbè avete capito E quindi Devo adattarmi Vediamo cosa esce Cioè vediamo I campioni che escono Queste cose qua E Devo giocare a quelli E questo Non lo gioco quasi mai Però Divertente Oh porca No Zed No Zed Forse è esagerato Oh bene Oh più di così Non so Cosa fare Ho giocato molto bene Ho fatto vincere La mia squadra Perché adesso L'hanno fatto L'inibitore Tutto Non so fan È la tua prima Live che vedo Sono un verginello Ok Grande L'importante Voi sappiate L'idroformulazione Voglio solo essere salutato Ciao Shatak Grazie di aver scattato Il ti saluto E aver perso 100 punti Ma ti saluto Quindi hai guadagnato qualcosa Quindi ciao Buonasera e benvenuto La mia prima Live che vedi Allora Allora sì Allora sappi Che in questo momento Sto facendo questa scalata Con i champion Random Tutto random Quindi benvenuto E grazie di essere qui Bene abbiamo vinto Morellone next item Sì bot Il prossimo oggetto Che faccio è il morello Però una prossima partita Magari Che ne dici Eh Va bene Che onoriamo Odir Ha avuto La voglia di giocare Odir La pazienza di giocare questo campione Stiamo salendo ragazzi Il gold si avvicina sempre di più Lacrime in chat No Chi è che l'ha scritto No Qui non si fanno le lacrime Qui si fa lo porca Oh porca ragazzi Ancora scrivere Per favore Please stop chatting All the game Fuck Mamma mia ragazzi Che palle Basta scrivere Ma c'è la fan